Ciao, ciao a tutti! Mi hanno chiesto di spiegare in modo semplice cosa significa fare il networking. Io direi che è il passaparola 4.0, ovvero quando un manager ha bisogno di cercare una soluzione, in base al suo istinto e in base alle sue conoscenze, seleziona alcune persone a cui rivolgersi. Bene, fare il networking secondo me è qualcosa in più, ovvero avere un metodo sul quale profilare e identificare esattamente chi sono gli acceleratori e i facilitatori per raggiungere più velocemente la soluzione. Concentrazione, concentrati in azione!